Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è uno dei pochi politici che riesce a comunicare senza utilizzare negazioni. Gli vengono chieste cose che apparentemente richiedono di rispondere con una negazione, con un non, non è vero, è falso, e lui trova un altro modo per rispondere al suo interlocutore. Vediamo. Salvini dice che lei si vergogna del suo simbolo. Salvini, guardi, può dire quello che gli pare. Passa ogni giorno, la mattina si sveglia e mi critica. Il pomeriggio, dopo il riposino, mi ricritica e la sera, prima di andare a letto, mi critica per qualcosa. Contento lui, penso che faccia una vita complicata per passarla così. Ora, qual è il segreto di fronte a domande di questo genere? Salvini dice che lei, puntini puntini, quindi immaginatevi di subire l'attacco di un altro politico, di un avversario politico e di dover rispondere a una domanda in cui vi viene detto, Salvini dice di lei questo, e la tendenza naturale del politico, ed è qui che sta uno dei principali errori della comunicazione politica, è quella di smentire. Non è vero, è falso. Che cosa fa invece Enrico Letta? Salvini non ha di meglio da fare. Salvini ha sempre me in mente prima di andare a dormire. Cioè, anziché smentire, crea un'immagine mentale opposta a quella dell'attacco che gli viene fatto. E questo è il segreto, cioè il segreto è stare off topic, andare fuori tema. Se un avversario fa un'affermazione contro di me, quindi attivando nell'ascoltatore una certa immagine mentale, se io la smentisco paradossalmente la amplifico. Cioè il titolo diventerà non è vero che, Letta due punti, non è vero che. E quindi implicitamente riaffermerei l'affermazione del mio oppositore. Che cosa fa invece Enrico Letta? Va off topic, cioè fuori tema. Io sono il costante pensiero di Matteo Salvini. Salvini passa le giornate pensando a me. Allora cosa succede se io faccio questo? Succede che sto attivando un'altra immagine mentale, che è opposta a quella che il mio oppositore voleva attivare nell'ascoltatore. Ho evitato una negazione, ho trovato una soluzione.